Signore e signori buonasera, per le esclusive di Teleradio Cinghiale Stereo Network stiamo osservando il traffico di Cosenza. Questa è la giornata del 20 di settembre 2012, ci troviamo su una grande arteria della cittadina di Cosenza, più precisamente nella zona di Viale Roma. Questa è praticamente la strada che collega Cosenza con l'autostrada. C'è sempre un buon flusso di lettura. Per il momento le radio di punta sono circa 18,40, però c'è già una buona situazione del traffico. Ecco qui le macchine che scorrono, come sempre. Adesso stanno accorciando anche le serate. Farà notte prima, fra poco, dovrebbe entrare di nuovo in vigore l'ora, non so se si chiama ora legale o come si chiama, comunque torneremo al vecchio orario e quindi farà notte prima e dormiremo un'ora in più, mi pare di ricordare. Non so cosa prevede una regola di YouTube sulla privacy, se si può filmare o meno in un luogo pubblico all'esterno, mi pare di sì che all'esterno si possa filmare. Sono vietate le registrazioni in luoghi privati, al chiuso, ma nei luoghi pubblici penso si possa filmare senza problemi. Certo, non tutti hanno la felice idea di fare un filmato in mezzo all'incrocio di una grande città, grande città se così o senza la si può definire, però sicuramente di tutte le città calabrese secondo me è la più bella, la più vivibile, quella che forse ha più anche molto in traffico. rispetto anche ai segnali che riguardano i pedoni, quando è rosso ci si ferma e quando è verde, come potete vedere, si passa. Troppo contorno il rosso per i pedoni e si riparte con le macchine. ecco qua una bella entra spring e si riparte. ecco qua!